e ci occupiamo invece del caso Cappato della palla in tribuna della decisione pilatesca della Corte Costituzionale che ha rinviato al 24 settembre 2019 la sua decisione in merito all'articolo 580 del codice penale che ricordo punisce l'istigazione e l'aiuto al suicidio se il suicidio si realizza con una pena detentiva che va dai 5 ai 12 anni di carcere perché spiegheremo che non esiste un vuoto normativo sul fine vita esiste un principio giuridico saldo confermato dal codice penale all'articolo 580 che la vita non è disponibile non è un bene disponibile questo principio giuridico è salvaguardato dalla norma e non c'è nessun vuoto normativo quindi quando oggi leggete che c'è un vuoto normativo i giornali non stanno dicendo un vuoto normativo B. Non si sta discutendo di legge di fine vita la legge sul fine vita è stata approvata il 27 dicembre 2017 alla fine della scorsa legislatura con tanto di festeggiare parlando di eutanasia che è l'intervento di un medico alla soppressione di un malato qui si sta decidendo di fare un'altra cosa infinitamente più aberrante che è la soppressione attraverso un suicidio che però non è un suicidio è un suicidio agevolato di persone che non sono malate per il caso di DJ Fabbo è tipico tutti dicono DJ Fabbo era malato DJ Fabbo non era malato era un grave disabile non aveva una malattia era un grave disabile a seguito di un incidente stradale vediamo il principio che si possono sopprimere a pagamento perché il metodo rivendicato da Marco Cappato è quello svizzero allora noi apriamo le porte all'inferno ben oltre l'eutanasia è dunque un criterio talmente folle e criminale che sono stupefatto che la Corte Costituzionale non abbia semplicemente rigettato l'istanza del Tribunale di Milano che per non condannare Marco Cappato ha rinviato le carte alla Corte Costituzionale qui stanno tutti gettando la palla in tribuna non c'è dubbio non c'è da interpretare la norma la norma è chiara perché deriva da un principio giuridico che è l'indisponibilità della vita umana perché si considera la vita umana bene indisponibile questo principio di civiltà che esiste da 27 secoli da 27 secoli e che nel nostro ordinamento giuridico è pienamente riconosciuto verrebbe frantumato da un possibile intervento della Corte Costituzionale leggo a sovvenire che oggi sono tranquilli dicono no non possono fare possono fare potrebbero cancellare l'espressione aiuto al suicidio dall'articolo 580 del codice penale dicendo che solamente l'istigazione al suicidio sarebbe punibile con i famosi 5-12 anni di carcere perché l'articolo 580 norma sia l'istigazione che l'aiuto al suicidio potrebbero con un tratto di penna togliere il riferimento all'aiuto al suicidio l'articolo 580 rimarrebbe orbo di questa espressione e come hanno già fatto con altre leggi cancellando con un tratto di penna un segmento di legge ne deriverebbe un principio totalmente nuovo quale sarebbe questo principio? sarebbe la depenalizzazione del suicidio a nulla a quel punto la palla rimbalzerà di nuovo alla Corte Costituzionale che lo ripeto io temo possa procedere con questo famoso tratto di penna dicendo il Parlamento non ha legiferato legiferiamo noi poi la Corte Costituzionale non può legiferare però può dichiarare in Costituzionale un segmento di quel articolo 580 e con questo cancellare il suicidio assistito dalle fattispecie penali questo diventerebbe aprire il Luna Park dei Cappato dove la soppressione a pagamento delle persone diventerebbe prassi anche in Italia vi faccio notare che il suicidio assistito è contestato e penalmente condannato persino in Olanda persino in Olanda dove c'è l'eutanasia il cosiddetto suicidio assistito può essere praticato solo dai medici non può essere fatto alla maniera svizzera quando fondammo la Croce il nostro piccolo quotidiano ci fu una discussione tra noi che lo fondammo perché sotto la testata come sapete non c'è messo il motto di Ponzio Pilato che ha animato la Corte Costituzionale è il motto che sta sotto la testata la verità dove c'è appunto il motto pilatesco qui test veritas che cos'è la verità noi sotto la testata la Croce abbiamo messo una parola che ormai è cancellata che è contro contro i falsi miti di progresso se voi vedete la Croce la nostra prima pagina sotto la testata c'è scritto contro i falsi miti di progresso non possiamo far altro in questa fase che animare è un dissenso lo abbiamo detto in assemblea nazionale e dissenso vuol dire anche essere esplicitamente contro esplicitamente contro i falsi miti di progresso ed è un'espressione che noi rivendichiamo dall'inizio del nostro percorso con la fondazione del quotidiano La Croce nel 2014 primo numero gennaio 13 gennaio 2015 sono ormai quasi 5 anni che noi rivendichiamo di essere contro i falsi miti di progresso perché adesso cominciamo a essere stufi del dover essere silenti davanti a un passaggio politico attenzione politico e giuridico che rischia di essere tremendo lo ripeto nel nostro ordinamento giuridico la vita è un bene non disponibile non solo nell'articolo 580 ma in tutti i criteri che animano l'intero ordinamento la vita è un bene non disponibile la vita è un bene non disponibile se attraverso questo pertugio passa l'idea che la vita possa essere un bene disponibile al punto da poter monetizzare addirittura il suicidio noi creiamo un vulnus sull'intero sistema giuridico italiano che porterà a conseguenze infernali dobbiamo avere chiaro questo tipo di situazione questo passaggio è il passaggio determinante che vede il popolo la famiglia schierato in maniera forte chiara contro perché altrimenti come dice Chesterton ho ricordato anche ieri o si grida prima che il male viene prodotto o gridare dopo che il male si è prodotto oltre che da inutili da che inutile è DJ Fabbo ma si arriva a una cultura dello scarto che porta lo scarto all'eliminazione noi siamo stati sul sagrato di San Pietro mentre il Papa ci ricordava la sua catechesi sul comandamento non uccidere saremo conseguenti al mandato ricevuto sul sagrato di San Pietro faremo valere il comandamento non uccidere è chiaro quello che sta accadendo è chiaro a tutti sono chiari i termini non è vero che c'è un vuoto giuridico è un falso il vuoto giuridico non c'è anzi il sistema è organico l'articolo 580 non è equivoco punisce il suicidio assistito con 5-12 anni di carcere dunque non c'è il vuoto normativo non c'è da legiferare sul fine vita perché la legiferazione sul fine vita è stata compiuta nel dicembre del 2017 non c'è una norma sull'eutanasia perché qui non si sta parlando di eutanasia non si sta parlando dell'intervento medico su un malato si sta parlando di interventi a pagamento su persone sane cioè il metodo svizzero che attraverso la depenalizzazione del suicidio assistito che è cosa diversa dall'eutanasia ha costruito un florente business dove tu vai con 15 mila euro sei lucio magri te lo puoi permettere e ti vieni ammazzato a prescindere se sei sano come un pesce o semplicemente triste con il cosiddetto concetto della dignità della vita la qualità della vita tremendo il concetto di qualità della vita chi lo fissa il criterio della qualità della vita a quale livello di qualità la vita è degna di essere vissuta o non la è più con questo criterio arrivi in Svizzera arrivi in Islanda arrivi in Danimarca e tutti i bambini da un vengono soppressi prima di nascere questo è chiaro se il tema è che c'è qualcuno che può determinare il livello qualitativo sotto il quale la vita non esiste più ti sopprimono come il bambino in Olanda che poteva vivere per 10 anni ma siccome era solo 10 anni è stato soppresso da neonati se tu apri il cancello attraverso questa decisione della Corte Costituzionale al suicidio assistito apri al concetto della vita come bene disponibile apri al concetto della qualità della vita sotto cui sotto cui un livello minimo può essere eliminato chi lo fissa questo principio dove si mette l'asticella della qualità della vita a quale punto volete saperlo cominci con sopprimere 700 come in Olanda e Belgio del 2001 arrivi a sopprimene 20.000 perché questo del 2018 perché questo livello si alza sempre di più l'asticella della cosiddetta qualità diventa sempre più alta e allora non si liberalizza il suicidio si porta a una cultura di morte della soppressione di massa dell'individuo non produttivo no e quando la cosa sarà prodotta sarà tardi per lamentarsi possiamo farlo solo ora un grande livello di mobilitazione che ci permetta di creare consapevolezza tra i cittadini italiani sulla necessità di mantenere inalterato il principio giuridico generale che la vita è un bene indisponibile come fare allora come fare mobilitazione e informazione intanto questa puntata con questi termini con le spiegazioni giuridiche fatela arrivare ovunque sarà poca la mobilitazione sarà fortissima faremo l'intera mobilitazione che già dobbiamo compiere sul reddito di maternità e per la raccolta firme lo faremo con l'attenzione che dobbiamo anche a dire in particolare ai cattolici e al mondo pro-life ragazzi ritroviamoci tutti su una piattaforma politica alternativa altrimenti questi fanno passare la qualunque fanno passare la qualunque bene noi questo dobbiamo impedirlo parlandone con fierezza e chiaramente non abbiamo altre strade dobbiamo far capire lo ripeto con nettezza ed estrema chiarezza a cosa va incontro questa cultura giuridica nazionale italiana se si opera quel vulnus è faticoso spero di aver spiegato con chiarezza i termini giuridici della questione li ripeto non c'è alcun vuoto normativo la norma c'è è esistente è l'articolo 580 del codice penale che punisce il suicidio assistito con una pena che va da 5 a 12 anni di carcere non c'è un vuoto sul fine vita perché la legge sul fine vita è stata approvata il 27 dicembre del 2017 non si parla di eutanasia l'eutanasia è l'intervento di un medico su un malato il suicidio assistito opera su persone sane e infatti DJ Fabbo non è un malato è un disabile grave non ha malattie è eliminato della sua condizione di disabilità è solo una questione di controllo dei costi dei sistemi sanitari e di welfare previdenziali e assistenziali per questo si uccide Charlie Gard per questo si uccide Alfie Evans per questo si vogliono leggi sempre più ampie per ammazzare sull'aborto per questo si ammazza un bambino appena nato in Olanda perché ha solo 10 anni di vita e dunque ammazziamolo subito per questo si vogliono sopprimire i disabili per questo si vuole vivare una cultura della qualità della vita non dell'indisponibilità della vita per cui se tu sei con la tua asticella sotto il tratto di qualità che viene disegnato da quelli che hanno qualità alla fine o ti suicidi o ti mettono in condizione di non nuocere creandoti l'idea che sei un peso e uno scarto per la società e questo non possiamo consentirlo questo non possiamo consentirlo è la nostra missione storica siamo chiamati a questo che più persone possibili possano seguire quello che abbiamo detto in questa diretta dove soprattutto la cosa fondamentale era chiarire i termini della questione e spero davvero che da oggi per tutti noi siano più chiari da Maria Rinolfi una buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.